Lo aveva annunciato tempo fa il sindaco Massimo Seri e questa mattina è arrivata la conferma. Sarà Cristian Fanesi del Partito Democratico il settimo assessore della giunta fanese. Dovrà occuparsi di lavori pubblici, protezione civile, viabilità e servizi cimiteriali. Alla fine dunque la soluzione è stata trovata individuando Rosetta Fulvi come nuovo presidente del Consiglio Comunale, insediatasi nella seduta di ieri, mentre Fanesi, ormai ex capogruppo consigliare, come settimo assessore a costo zero, visto che Carla Cecchetelli ha rinunciato a parte della sua indennità per coprire quella di Cristian, che questa mattina ha firmato ufficialmente la documentazione. Il primo cittadino per ora non prevede ulteriori rimpasti, ma seguirà da più vicino il settore del turismo. Più avanti invece penserà ad assestare la macchina organizzativa che potrebbe interessare i dirigenti o l'accorpamento di servizi. Intanto, visto che Fulvi percepirà solo metà dell'indenità, ha precisato Seri, siamo la struttura che costa meno nella storia della città di Fano. Continuiamo quindi sulla strada della sobrietà, ha commentato, e in questo modo verrà alleggerito il lavoro degli altri assessori, che potranno concentrarsi maggiormente sugli obiettivi prefissati. A Fanesi invece ha augurato buon lavoro definendolo un giovane con tanta voglia di fare. Sono convinto, ha detto, che sarà un buon collaboratore del sindaco. Non dobbiamo mai dimenticare che la giunta è un organo collegiale, quindi deve esserci un discorso di squadra, così riusciamo a integrare meglio anche una serie di deleghe che devono collaborare tra loro, per cui sono fiducioso e soprattutto è un innesto anche di un giovane che ha voglia di fare e anche un messaggio importante di questo tipo. Fanesi, 38 anni, è un ingegnere dipendente della Saipem ed è in politica dal 1999. Entrato in consiglio comunale con 320 preferenze, ora si dovrà dimettere da consigliere perché al suo posto subentrerà Sergio Del Rico, primo dei non eletti del PD. Dovrà invece aspettare Annita Mencarelli, visto che Minardi per il momento non si dimetterà da consigliere comunale. Oggi sarà l'esordine giunta, sono molto contento ovviamente, spero di fare del mio meglio, sono sicuro di entrare in una squadra che comunque ha già dimostrato un ottimo lavoro, un'ottima coesione, quindi con l'aiuto dei predecessori, in particolare Marco Polini, Marina Barniesi e Stefano Marcheggiani, cercherò di proseguire il lavoro buono che è stato fatto fino adesso, cercando di ovviamente rafforzarlo, e cercando di, insieme alla squadra e tutta la giunta, di fare del mio meglio perché questa città possa avere tutte le soddisfazioni che sono necessarie.